Si parla molto in questi giorni dei tempi che andranno rispettati per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ospedale, l'ospedale San Cataldo. Mancano, come si sa all'appello, 105 milioni di euro e non si riesce ancora a comprendere se queste risorse debba metterle lo Stato attraverso il Ministero della Salute oppure possa anticiparle la Regione e poi recuperarle attraverso l'organo statuale. Sono solme importanti perché l'opera non può essere completata se non si comprano queste attrezzature e questi macchinari. Molti macchinari, molte TAC, molte risonanze magnetiche, bisogna sapere prima che tipo di macchine sono proprio perché gli interventi che devono essere fatti, interventi edivi, devono essere anche commisurati, collegati, posti in relazione a un tipo di macchina perché non tutte le macchine hanno le stesse caratteristiche. Ma il tema importante di questa vicenda che si omette e che non viene trattato è che non esiste un'azienda ospedaliera a San Cataldo. L'incarico, per intenderci, che ha ricoperto l'onorevole Pelillo sino a qualche giorno fa non era di rappresentante dell'azienda ospedaliera a San Cataldo. La delibera firmata in regione dal responsabile del Dipartimento Sanità, il dottor Montanaro, recita di un'azienda ospedaliera santissima annunziata. Guardate, la differenza non è di poco conto. Questo andrebbe, come dire, specificato, capito, compreso. Non c'è mai stata un'azienda, non c'è un'azienda ospedaliera che porti il nome, che ricchi il nome del nuovo ospedale San Cataldo. Qualcuno dovrebbe spiegarci perché si è spacciata una cosa per un'altra. E poi un altro tema. Il nuovo ospedale non contiene al momento le aree da destinare alle aule, alle aule universitarie. Lo si può rendere un policlinico. Nei policlinici ci sono le aule universitarie, c'è la ricerca, c'è la formazione. Ma quella struttura ad oggi non ha queste aree. E bisognerebbe anche essere onesti nel dire che attualmente l'Università di Medicina è allocata nell'ex palazzo della Banca d'Italia. Ma quel palazzo non riesce a soddisfare una idea di corso universitario. Quindi il dibattito attorno all'ospedale San Cataldo è sì ricercare i 105 milioni che possano portare a completamento dell'opera, ma anche far luce sul fatto che non è mai stata creata un'azienda ospedaliera che abbia appunto il nome del San Cataldo e che non è possibile al momento portare lì le aule universitarie e fare di quella struttura una volta che sarà completata un policlinico. Ecco, su questo sarebbe necessario che i politici, gli organi di informazione, i rappresentanti sindacali e tutti gli stakeholder dicessero con chiarezza come stanno le cose. Grazie. Grazie.